Il fatto di aver perso troppi soldi alle slot machine proprio non gli andava giù e così hanno pensato bene di rifarsi rapinando i gestori del locale. Ma mentre si mettevano in tasca l'incasso non si sono accorti di essere ripresi da una telecamera di sicurezza. Così sono stati incastrati gli autori del colpo messo a segno la sera del 31 marzo scorso in una sala scommessa nel centro di Modugno. Quattro le persone finite in carcere e due ai domiciliari a seguito delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Bari Maria Teresa Romita su richiesta della procura. Gli arrestati sono tutti del posto e hanno un'età compresa tra i 32 e i 41 anni. In base a quanto emerso nel corso dell'attività investigativa condotta dai carabinieri il gruppetto aveva trascorso l'intera serata nel centro scommesse consumando alcolici e giocando alle slot machine. Ma dopo aver perso una grossa somma si sono avvicinati a gestore e titolare del locale minacciandoli di morte e facendosi consegnare l'intero incasso di giornata pari a circa 3.000 euro. Poi si sono allontanati come se nulla fosse, forse ignari, di essere stati immortalati dall'impianto di videosorveglianza. Una volta analizzati i filmati e raccolte le dichiarazioni delle due vittime che hanno collaborato alle indagini, i militari sono riusciti ad identificare e mettere le manette a tutti i componenti del gruppo. All'operazione hanno preso parte una quarantina di carabinieri del comando provinciale di Bari.